Cantieri e investimenti senza sosta con la giunta Acquaroli. Oggi siamo sulla superstrada che collega Fano con l'entroterra e collegherà in futuro Fano con Grosseto per una rigenerazione complessiva di questo asse stradale. Un fondo che non teneva, non teneva da decenni, che viene completamente ricostituito. Infatti si parla di rigenerazione di questa superstrada. Con oltre 12 milioni di euro complessivi già spesi nel tratto tra Fano e Colli al Metaure vogliamo proseguire verso Fossombrone. Qui che cosa stiamo facendo? Stiamo andando nella direzione Monte Mare e si rigenererà per 60 cm il terreno per reggere il passaggio dei mezzi e per recuperare quel dissesto che doveva essere recuperato da tanto tempo che nessuno aveva mai realizzato. Ma cerchiamo di coniugare sicurezza anche con il turismo. Infatti ANAS ha raccolto il nostro appello a sospendere i lavori nel fine settimana nei picchi del turismo per poi riprenderli ad inizio settimana e concluderli prima di ferragosto. Perché stiamo molto attenti alla sicurezza ma stiamo attenti anche agli operatori economici. Poi continueremo perché da fine agosto per settembre oltre a questi due chilometri e mezzo che stiamo realizzando realizzeremo un altro chilometro e 800 metri sia in direzione Fano tra Bellocchi e Fano Sud sia nel tratto di Calcinelli dove nello svincolo c'è bisogno di un intervento di risanamento profondo. Questi sono i lavori pubblici che ci piacciono, questi sono i lavori pubblici che rilanciano l'economia del nostro territorio, questi sono anche i lavori pubblici che fanno far bella figura al nostro turismo. A Fano e nelle nostre città dell'entroterra si può arrivare in sicurezza grazie a questi investimenti che in tutte le marche rappresentano in soli 45 mesi di giunta a Quaroli oltre 4 miliardi di euro. Grazie a tutti.